Gentili telespettatori, seconda parte di Polifemo, l'occhio di Abate. Beh, è una puntata davvero speciale quella di stasera. Parliamo infatti di medicina ad alti livelli e stiamo presso lo studio medico Mandrillo, International Excellence Center, sito a Montegliasi in via Trieste 96, una puntata, dicevo, speciale in compagnia del dottor Pier Michele Mandrillo. Buonasera dottor Mandrillo, ci occuperemo di iTech in odontoiatria e medicina estetica. Night Laser, un nuovo approccio terapeutico di eccellenza clinica al russamento notturno. Ma intanto, dottor Pier Michele Mandrillo, lei è conosciutissimo, però riepiloghiamo brevemente il suo curriculum che, devo dire, è molto, ma molto forbito. Dottor Pier Michele Mandrillo, medico chirurgo odontoiatria dal 1992, medico estetico dal 2012, master Tor Vergata 110 su 110 con lode, professore a contratto presso l'Università di Chieti, di Foggia, di Genova e di Tor Vergata, Roma. Nonché ancora, docente, quindi come docente, master europeo per laureati in medicina e master europeo per laureati in odontoiatria, Aspem Milano, International Project Leader Esteat, Life Motif, dicevamo proprio il tema di questa puntata. Nonché tra i titoli che il dottor Pier Michele Mandrillo può vantare, c'è quello di vicepresidente nazionale SIMBEN, Società Italiana Medicina del Benessere, responsabile nazionale medicina estetica e in odontoiatria AIME, Associazione Italiana Medicina Estetica. Nonché componente del consiglio direttivo AMPIS, International Academy Practice Aesthetic Medicine, e poi componente Board Scientifico Internazionale IAIME, International Academy Aesthetic Medicine. E allora, dottor Pier Michele Mandrillo, fatta questa premessa, andiamo subito in Medias Res. E in un momento in cui la nostra città ed il territorio circostante continuano a ricevere e subire attacchi mortali alla salute generale, ne abbiamo appena parlato in Polifemo, lei da medico odontoiatra e International Project Leader di Esteate, Light Mofif, proprio da Montegliassi, a pochi passi, a pochi chilometri dall'Ilva, ha inteso lanciare il progetto salutistico a Puglia, Full Life. Salute e vita agli anni di ogni età. Perché è certamente un progetto ambizioso, ma ce lo spieghi meglio. Grazie, dottor Abbate, grazie ai telespettatori e grazie alla possibilità di parlare, anche con un minimo di emozione, ma fa parte della componente umana, guai se non fosse così, del lancio internazionale di questo progetto proprio dalla mia terra. Questa terra nella quale, come sempre, diciamo, si respira aria di morte. E perché no invece partire? Io appartengo a quella generazione che, seguendo George Bernard Shaw, non ha aspettato il momento opportuno, l'ha creato. Io voglio creare un momento di aggregazione medica, di aggregazione scientifica, di aggregazione sociale, di aggregazione importante per dare da Taranto, per rilanciare da Taranto un messaggio di vita. E allora nasce, già nel 2012, Esteate, Life Motive. Un po' la metafora con Light Motive, che è il ritornello che caratterizza molte canzoni. Io ho giocato sulle parole, come mi piace fare, di tradizione familiare, dei mandrillo, e quindi nasce Life Motive, cioè... Misticcio di parole. Misticcio di parole, motivo di vita. Esteate è un International Medical Professional Network, quindi Taranto arriva agli onori internazionali con questo network medico di tutti gli operatori della salute. E così come ribadito già dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1948, poi ancora a Ottawa, la malattia non più, cioè la salute non più come assenza di malattia, ma come benessere psicofisico. E quindi con questo progetto, che ho voluto chiamare Apulia, For Life, anche qui giocando sulle parole, For Sta Per Quattro, cioè le quattro stagioni della vita, il bambino, l'adolescente, il giovane, adulto e l'anziano. E quindi questo progetto vuole essere un inno allo star bene, partendo proprio dalla mia regione, dalla mia città, e diventa quasi una sorta di riscatto sociale attraverso il recupero della salute generale. Ecco, Dottor Mandrillo, in quanto tempo ha elaborato questo progetto, facciamo un po' la genesi e la gestazione, per così dire, dello stesso, per arrivare ovviamente al momento in cui ha visto la luce? Ma la gestazione di questo progetto, per usare in termino medico, è un po' il mio curriculum. Lei ha avuto la cortesia di leggerlo e di comunicarlo ai tanti telespettatori. 25 anni di attività dalla laurea, e tutti gli anni di laurea mi hanno permesso di avere uno scenario particolare, ma di focalizzare in questi ultimi 5 anni l'idea di un network. Sentiamo sempre parlare di questa parola che significa interconnessione, che significa la possibilità di chi più sa, di chi più deve dare verso gli altri, per creare appunto uno stato di benessere sociale. Immaginate che c'è già qualcuno in qualche nazione che ha paragonato lo stato di benessere all'aumento del PIL. Dottor Mandrillo, ormai da tempo tutti i media nazionali parlano delle correlazioni pericolose tra russamento ed apnee notturne e salute generale. La prima tappa terapeutica del progetto Apulia, Fur Life, è I Love My Dentist, Sleep Well Care Stop Snoring. Qual è allora il ruolo del dentista, attività che, come detto poc'anzi, lei svolge da 25 anni? Allora, il progetto Stop Snoring, che è appunto la prima tappa di questo progetto più ampio che poi magari in altre puntate cercheremo di far esplodere e di raccontare in tutti gli altri addentellati, è un progetto legato alla particolare figura del medico dentista, ormai da anni non più soltanto cavadenti, ma un medico della salute generale a tutto tondo, basti pensare dalle ultime evidenze scientifiche che correlano il ruolo di una malattia storica per l'odontoiatre, cioè la parodontite, la cosiddetta piorrea, all'ambito più generale di tutte le correlazioni pericolose note come periomedicine, cioè la possibilità di incorrere in ictus, infarto, in aborti pretermine, in nati prematuri, addirittura la sesta complicanza del diabete. Un'altra delle componenti fondamentali del ruolo dell'odontoiatra è quello di essere il medico in trincea, il primo medico che può intercettare una condizione ormai pericolosa per il paziente che è quella del russamento notturno che può evolvere verso le forme più complicate di ostruzione delle vie aeree e quindi generare delle apnevere proprie che colpiscono tantissimi. In Italia si parla ormai di dati che sono dati endemici, tanto che qualcuno l'ha definita appunto un'epidemia silente. Basti pensare che i russatori hanno il 40% di probabilità in più rispetto agli altri di morire prematuramente. Ecco, mi permetto di dire, dottor Mandrillo, il brutto è che il russatore magari non si rende conto e nel mentre non si rende conto il pericolo è in agguato. Infatti non ci si rende conto tanto che questo protocollo... Magari si rende conto chi è a fianco e che dorme con lui e ascolta il rumore, diciamo così, volgarmente. Infatti questo aspetto abbastanza particolare viene valutato nei protocolli americani evidence-based che io introdotto poi in Italia con questo protocollo e che la valutazione del russamento non viene fatta dal paziente ma quelli che gli americani chiamano il bad partner e cioè il partner. E vi racconto un aneddoto del protocollo del professor Giovanovici di Cozarac al quale io accedo, che è quello che la valutazione a volte il bad partner e il cane. I pazienti si meravigliavano come mai loro si addormentavano con il cane a piedi letto e poi la mattina trovavano il cane in veranda. Significava che il cane, non sopportando il russamento, pur essendo il cane un animale russatore, andava in veranda. La valutazione del beneficio del protocollo poi va fatta e i pazienti dicevano, ha ragione, io sono guarito perché il cane continuo a trovarlo la mattina addormentato a piedi letti, quindi la terapia funzionava. Ma veniamo invece a qualcosa di più importante, quello per esempio dei fattori di rischio che l'odontoiatra può valutare, oltre alla visita generale odontoiatrica che ci dà ragione per esempio di segni particolari dei denti sulla lingua, che sono il fatto che appunto la lingua aumenta di volume pressa contro i denti. Ma poi ci sono l'età, il sesso, i difetti anatomici delle alte vie aeree, l'uso di tabacco e di alcol, i farmaci, il sovrappeso, che ormai è un fattore generale, tanto che si parla nel 2020 di globesity, di questa nuova forma di obesità globale che riguarderà il pianeta. E poi il fatto per esempio che gli uomini in forma percentuale sono molto più colpiti delle donne, il 4% degli uomini affronta invece del 2% delle donne. Ancora, i pazienti obesi hanno il rischio, i maschi soprattutto, il 60% maggiore delle donne. Ma ahimè, anche i bambini obesi hanno un rischio del doppio rispetto ai bambini normali di avere problematiche di tipo sistemico. Dottor Mandrillo, russamento notturno ed apnee notturne sono ritenute unanimemente un grosso problema sociale che riguarderà anche dal prossimo 1 gennaio 2016 la nuova patente di guida europea. Perché? Quindi questo discorso scientifico, teorico, ha poi un addentellato con la vita quotidiana di tutti i giorni, con la guida, con la sicurezza. Ecco l'attualità è il motivo per cui stiamo affrontando un argomento importantissimo che magari la superficialità può far sfuggire ma è bene evidenziare perché poi si possono sorgere sorprese amarissime voi per il soggetto affetto dalla patologia ma nel momento in cui si guida i danni sono per l'intera comunità dei guidatori. Sì, questo è un dato molto importante proprio di questo aspetto di malattia sociale infatti già in America il russamento, lo snoring e le osas cioè le apnee ostruttive vengono ritenute malattia sociale cioè social disease. In Italia, come al solito, arriviamo un po' più lentamente ma arriviamo comunque. È stato pubblicato da tre importanti colleghi dal dottor Garbarino del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova dal dottor Sanna dell'Unità di Pneumologia dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia e dal dottor Alessio Ptd dell'Istituto Superiore di Sanità del Dipartimento Traumi uno studio molto importante proprio in questi giorni e quindi ecco l'opportunità di parlarne pubblicato sulla rivista inglese Chronic Respiratory Disease che dice che in Italia il dato allarmante cioè in Italia il 7% degli incidenti d'auto è causato da autisti che hanno slip apnee e osas cioè questo cosa significa? Che l'interruzione del sonno notturno oltre che come diceva il dottor Abbate in maniera molto oculata infastidisce il bad partner ma non solo per il russatore diventa un motivo di incompatibilità proprio con l'attenzione notturna con l'attenzione diurna quindi i guidatori di autobus di pullman di autotreni diventano purtroppo un pericolo per la società perché sono a volte loro la causa di incidenti purtroppo mortali non bisogna demonizzare questa categoria soltanto perché ognuno di noi alla guida di un'automobile può essere un potenziale pericolo e quindi da qui il recepimento di una direttiva europea la cito e chiedo scusa se leggo la 2014 dell'85 della Comunità Economica Europea che è stata recepita con un decreto legge in atto già dal 1 gennaio 2016 dal nostro Ministero dei Trasporti per cui oltre alla patente appunti la patente italiana avrà l'obbligo da parte di un'equipe medica di valutare il grado di OSAS del guidatore e nel momento in cui queste OSAS sono a seconda poi non entro nel merito perché non è il motivo della trasmissione la valutazione proprio clinica dei vari tipi di OSAS dover prima risolvere dal punto di vista terapeutico-medico questa problematica e poi avere il rinnovo della patente Dottor Bandrillo da quanto detto russamento notturno ed apnee notturne sono anche un grosso problema medico di prevenzione di stili di vita di terapie e di impiego di nuove sofisticate tecnologie per la diagnosi e la cura vogliamo parlarne approfondire l'argomento? Sì certo da quello che abbiamo detto risulta importante lo stile di vita tant'è che da medici oltre che da odontoiatri diamo già dei consigli quello dell'assunzione di ridurre o di evitare addirittura l'assunzione di alcolici e sedativi prima di andare a dormire di non fumare per non complicare chiaramente il quadro clinico respiratorio che poi verrà compromesso dall'apnea di evitare abusi alimentari mi piace questa affermazione evidenze che quello di consumare cene digeribili e qui apriremo post expo un grande capitolo quello dei fast food o delle pizze con lievitazione non nella pizzeria ma nello stomaco dei pazienti quella che è la dieta americana chiamiamola così sì alla quale chiaramente si contrappone uno dei nostri maggiori plus in tutto il mondo patrimonio dell'umanità che è la dieta mediterranea oppure il consiglio di addormentarsi per esempio in posizione laterale questo per favorire l'espansione della gabbia toracica ancora ci sono poi tre aspetti fondamentali che io non affronterò quello dell'approccio di tipo medico al paziente con le osas e quindi il suggerimento e l'adozione della CPAP cioè della tecnologia a pressione continua oppure da parte degli odontoiatri sappiamo benissimo i MAD i Mandibular Advanced Device cioè degli apparecchi particolari che permettono alla mandibola di scivolare in avanti durante tutta la notte e di aprire un po' la pervietà delle vie aeree e siamo ad un'altra domanda proprio che riprende il il nomen della trasmissione di una parte della trasmissione Night Laser Therapy può essere questa la proposta terapeutica ambulatoriale è minimamente invasiva per i soggetti con russamento ed apnee notturne? Sì sicuramente sì e questa è la novità di questo di questa trasmissione fresco dal conseguimento del patent cioè della dell'autorizzazione medica eseguita dal maestro dal professor Jovanovic questo bosniaco di Kozarak in Bosnia appunto che ha ideato un protocollo particolare con il laser ad erbium facciamo prima una valutazione del paziente il protocollo è molto articolato il paziente viene visitato eseguiamo una valutazione come fanno i colleghi anestesisti con una scala cosiddetta di mallampati di primo secondo terzo e quarto grado per capire qual è la conformazione del palato e se vediamo o no ugola e tessuti molli dopodiché forniamo al paziente un saturimetro notturno che ci dà la possibilità di capire l'apparecchietto che si mette al dito per capirci il kit che poi forniamo ai nostri pazienti questo è una tecnologia innovativa una tecnologia molto nuova un saturimetro notturno che forniamo al paziente in questo progetto e noi medici estetici io in particolare usiamo questa tecnologia peraltro molto costosa per la riduzione delle rughe sul viso quindi una sorta di ringiovanimento generale ma lo usiamo anche nella dermatologia chirurgica lo usiamo anche in odontoiatria nella sterilizzazione dei canali radicolari nella parodontologia insomma uno strumento come diciamo che accendiamo la mattina e che spegniamo la sera proprio per le sue grandi peculiarità ma questo strumento abbiamo visto in medicina estetica agiva sul fibroblasto questa particolare cellula del nostro derma che è capace di produrre per tutta la vita collagene elastina ed acido ialuronico l'età porta a distruzione di una parte di questi fibroblasti con il conseguente aspetto flaccido del viso le rughe e allora ci siamo posti la domanda ma all'interno del palatomolle e quindi dell'ugola ci sono le stesse cellule i fibroblasti e allora se la nostra terapia laser ha efficacia sui fibroblasti del volto perché non deve avere efficacia sui fibroblasti dell'ugola che sono quelli che praticamente non funzionano più e determinano il collassamento di questa parte di tessuti a livello del rinofaringio e quindi la chiusura della pervietà delle vie aerea nella respirazione notturna che porta alle apnee un protocollo che dura ormai da tre anni ha dato risultati straordinari che abbiamo chiamato appunto night laser e cioè con lo stesso laser noi adottiamo questo protocollo nel quale in tre sedute passando la nostra fibra laser il nostro manipolo in dei punti particolari riusciamo a esercitare lo screen cage delle fibre cioè il riassorbimento di questo aspetto flaccido e diamo nuovamente per sei mesi pervietà alle viere qual è il plus di questo protocollo beh intanto il fatto che non è da eseguire in ambiente ospedaliero è ambulatoriale è minimamente invasivo non c'è bisogno di anestesia non c'è bisogno di nulla si fa in tre sedute a cadenza quindicinale si può fare in tutta l'età quindi anche nei bambini come abbiamo visto che sono un po' poi la categoria a rischio non dà postumi quindi c'è un recupero relazionale immediato del paziente l'unico problema è i costi dell'attrezzatura quindi chi ha il laser ad erbium e in particolare il laser ad erbium con l'onda quadra può eseguire questi trattamenti ma qui entreremmo in un aspetto molto più specialistico bene dottor Mandrillo la ringraziamo per questo contributo cerchiamo di fare una informazione anche formativa proprio d'altronde informare ha appunto il suo suffisso proprio formare che è poi l'essenza dell'attività bene la ringrazio dottor Mandrillo e l'appuntamento con Polifemo l'occhio di Abate per venerdì prossimo stessa ora ore 21 stessa rete stesso canale viva la Puglia channel canale 93 del digitale terrestre che altro dire se Dio lo vorrà ci rivedremo tra sette giorni Polifemo l'occhio di Abate l'informazione libera della città buonasera grazie a tutti